La creatività è come un flusso inarrestabile che prende forme sempre diverse. La mia mi ha portata dai teatri ai set cinematografici, fino a farmi ad approdare qui. Sono Matilde, scenografa e performer in blu serena, dove convergono in perfetta armonia le mie passioni e le mie abilità. Qui ho trovato spazio per crescere, sperimentare e perfino sbagliare, grazie al sostegno di una fantastica equip che seguo condividendo le mie competenze. Dalle prime note estonate alle esibizioni più emozionanti, quando le luci si accendono sulle mie scenografie e il pubblico esplode in un applauso. E mi ritrovo in un istante sospeso nel tempo che mi riempi di gratitudine e soddisfazione. Questa è la magia di blu serena, un luogo dove il lavoro di squadra dà vita alle storie più belle, dove le idee diventano realtà, dove le idee prendono forma, dove mi sento finalmente libera di sfoggiare tutti i colori della mia creatività. Grazie. Grazie. Grazie.